Il nostro obiettivo è impegnare il governo prima dell'approvazione definitiva dell'accordo a trovare un approdo alternativo a quello di San Foca. La linea è tracciata ed è quella ufficiale del gruppo di Forza Italia alla Camera. Ad annunciarla alla platea di Melendugno il deputato Rocco Palese con un messaggio inviato al sindaco Marco Potì per comunicare tra l'altro la sua assenza all'incontro programmato per il pomeriggio con gli altri parlamentari. Il conto alla rovescia è iniziato per la ratifica definitiva dell'accordo internazionale alla Camera dopo quella già incassata da tappa al Senato. Inotap e le amministrazioni comunali chiedono che la deputazione salentina si faccia carico della richiesta di rinvio del voto per attendere le risultanze della procedura di partecipazione dal basso voluta dalla regione Puglia nello scetticismo generale. I punti fermi rimangono distanti. Da un lato i Notap continuano a ribadire la propria contrarietà al progetto in toto dimostrando la non strategicità dell'opera ed evidenziando negli impatti ambientali, economici e socioculturali ritenuti deleteri e non mitigabili. Per questo chiedono a tutti i parlamentari pugliesi di farsi portavoce delle istanze della popolazione anteponendo l'esito del processo partecipativo e il parere della Commissione via la ratifica del trattato tra Italia, Grecia e Albania sul gasdotto TAP. Dall'altro lato la rappresentanza parlamentare continua per la sua strada. L'opera è fuori discussione ma sull'approdo il confronto è aperto. Per Teresa Bellanova del PD la ratifica. Di quello internazionale non inciderà sulla eventuale diversa scelta della dislocazione. Forza Italia invece ingrano la quarta. Ratifica sì ma chiedendo prima di individuare un sito alternativo. Sito che potrebbe essere anche Otranto dove un altro gasdotto IG Poseidon ha già incassato il via libera del Ministero dell'Ambiente seppur con diverse prescrizioni. Otranto è una delle ipotesi conferma l'assessore regionale alla trasparenza Guglielmo Minervini. Lo è soprattutto dopo che da Roma è arrivato in là. Nel sito in cui approderà TAP dovrebbero confluire anche gli altri in arrivo in Puglia. Un sito per tutti. Insomma alla fine.